Le elezioni amministrative danne alle spade il candidato a sindaco di Prato del centrodestra. In bocca che all'auto la pista ciclopedonale abbatte la staccionata per recuperare il veicolo e intervengono i vigili del fuoco. La scuola Don Bosco torna in attivo dopo i tagli agli stipendi e ricompensa le insegnanti attivando il welfare aziendale. A Carmignano la lotta alle zanzare è attenta all'ambiente, la disinfestazione avverrà con prodotti biologici. Una buona giornata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. La politica in primo piano, il centrodestra ha scelto e Daniele Spadel candidato a sindaco. Spetterà quindi a lui sfidare il sindaco uscente Matteo Biffoni. L'annuncio ufficiale sarà fatto dal leader nazionale della Lega Matteo Salvini lunedì prossimo a Firenze. La notizia era nell'aria, adesso è ufficiale. Daniele Spadel candidato a sindaco del centrodestra. L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri al termine del tavolo nazionale tra i vertici di Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia a cui hanno preso parte Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgio Meloni che ha dato il via libera alla candidatura di Spada. La situazione si è sbloccata nelle ultime ore dopo un lungo braccio di ferro tra la Lega che ha sempre giudicato Daniele Spadel candidato ideale e Forza Italia che invece avrebbe preferito Rita Pieri o un terzo nome. 46 anni funzionario di confcommercio con un passato da consigliere comunale di Forza Italia. Spada rappresenterà il centrodestra alle prossime elezioni amministrative. Spetterà a lui correre contro il sindaco uscente Matteo Biffoni. Intanto è un grande onore, una grande responsabilità che porterò e porteremo fino in fondo andando a vincere le elezioni e a governare la città. Che sia il 27 di maggio, il tempo c'è, c'è tutto per fare un'ottima campagna elettorale. È vero che si poteva chiedere prima, ma non sono state settimane in cui siamo stati fermi. Abbiamo tutti lavorato a elaborare un programma all'altezza delle sfide perché la città ci chiede a selezionare una classe dirigente che sappia governare al meglio la città per i prossimi 5 o 10 anni. Come si immagina la campagna elettorale che si appresta a vivere? Non è facile, ma sicuramente sarà in mezzo alla gente facendo conoscere la squadra, soprattutto il programma, le nostre idee che sono sicuro conquisteranno la città. Soddisfatto anche il commissario provinciale della Lega Andrea Recaldin. Il centrodestra si compatta su Daniele Spada. Non voglio guardare indietro a quello che è stato e che sarebbe potuto essere. Ora dobbiamo impegnarci tutti al massimo per battere la sinistra, afferma Recaldin, che sta lavorando per portare a Prato Matteo Salvini, anche se al momento pare molto difficile. Lunedì prossimo il leader nazionale del Carroccio sarà a Firenze per dare il via alla campagna elettorale di Ubaldo Bocci, candidato del centrodestra nel capologo toscano, e in quell'occasione annuncerà anche il nome di Spada. La speranza della Lega Pratese è di strappare a Salvini una visita a lampo in città, ma l'agenda del ministro dell'Interno, fitta di impegni, non aiuta. Dal pianto suo, Rita Pieri, interpellata dalla nostra redazione, ha preferito non rilasciare dichiarazioni. A questo punto resta da capire se rispetterà la linea indicata dai vertici nazionali, oppure se deciderà di scendere in campo con una sua lista civica. Forse non era pratico della zona, altrimenti avrebbe saputo che il ponte della pista ciclabile sulla Barden è stato costruito per le biciclette e pedoni, ma non per le automobili. Fatto sta che ieri sera, poco prima delle 22, ha deciso di percorrerlo con la sua auto, e quando è arrivato alla fine della passerella, sopraelevata rispetto al livello della strada, ha abbattuto la staccionata di legno e la saota è rimasta a metà tra il ponte e la via sottostante. L'incidente è avvenuto in via San Martino per Galceti. L'incauto guidatore, un ragazzo italiano di 23 anni che si trovava da solo a bordo dell'utilitaria, si è allontanato a piedi lasciando l'automobile a penzoloni tra il ponte e la strada. È stato poi trovato poco dopo in stato di agitazione e trasportato in codice rosso all'ospedale Santo Stefano. Le sue condizioni non sono gravi ed è stato poi dimesso. La polizia municipale, giunta sul posto per i rilievi, ha disposto analisi per accertare l'eventuale assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti. La scuola Don Bosco torna in attivo dopo i tagli agli stipendi, a ricompensa il lavoro delle insegnanti attivando un piano di welfare aziendale. La scuola Don Bosco di Mezzana ha mantenuto la promessa fatta 5 anni fa ai propri dipendenti e adesso ha attivato un piano di welfare aziendale. La crisi economica che ha colpito imprese e famiglie ha avuto conseguenze negative per molti istituti paritari e così per poter superare quel difficile momento la gran parte delle scuole ha dovuto modificare i contratti nazionali dei propri dipendenti operando dei tagli agli stipendi. Nel 2014 la Don Bosco, di proprietà della parrocchia di San Pietro a Mezzana, si trovò davanti a una scelta, chiudere o andare avanti in modo diverso. All'epoca 18 insegnanti su 20 accettarono la proposta di diminuzione dello stipendio, circa 200 euro su un lordo mensile di 1.500 per mantenere il posto di lavoro. La scelta è stata dolorosa, però davvero il desiderio di mantenere un impegno preso, questo ci ha accompagnato in questi anni. Siamo qui oggi a parlare di welfare, forse è una parola che va di moda, per noi è stato un percorso lungo, faticoso, però anche molto bello e di soddisfazione. La direzione scolastica però fece una promessa, non appena i bilanci torneranno in parità, vi ricompenseremo per i sacrifici sostenuti per dare un futuro alla scuola. Il risultato tanto sperato è arrivato nell'anno 2017-2018 e così la Don Bosco per il 2019 ha disposto 600 euro per i dipendenti che hanno subito i tagli dall'inizio e 500 per tutti gli altri per accedere a beni e servizi disponibili sulla piattaforma web Sodexo. Con il proprio portafoglio online è possibile avere buoni carburante, sconti e agevolazioni in supermercati, palestre, negli studi medici e nell'acquisto di libri. Tempo fa non fu assolutamente semplice rinunciare a quella cifra, che anche modica però per alcune era veramente una rinuncia importante. Però oggi siamo contenti perché alla fine c'è stato riconosciuto con questo welfare aziendale una piccola parte e quindi per noi è una gratificazione per il lavoro che insieme a tutti gli altri abbiamo fatto per il bene della scuola, quindi ringrazio tutti. Il piano di welfare aziendale predisposto dalla consulente del lavoro Stefania Vannucchi è già stato messo a bilancio anche per il 2020 e l'anno successivo potrebbe addirittura aumentare. Inoltre la volontà della scuola è quella di stabilizzare tutte le attuali dipendenti con contratti a tempo indeterminato. E passiamo adesso alla cronaca. Tre arresti in poche ore da parte dei carabinieri. Manette sono finiti due cittadini marocchini che viaggiavano a bordo di un'auto nascondendo sette ovuli di cocaina. L'arresto è scaturito la notte scorsa a seguito di un posto di blocco a Carmignano. Il terzo pusher finito in manette è un quarantenne marocchino che continuava a spacciare nonostante si trovasse agli arresti domiciliari. I militari della stazione di Iolo che avevano osservato un via vai sospetto nell'abitazione dell'uomo hanno sequestrato nell'appartamento 19 ovuli di cocaina e tutto il necessario per confezionare e suddividere le dosi. E un altro spacciatore è stato denunciato ieri pomeriggio dalla polizia dopo aver ceduto alcune dosi di hashish a due clienti in centro tra Piazza Duomo e via Magnolfi. Il pusher è un 63enne libanese, irregolare e senza fissa dimora con precedenti specifici. Segnalate alla prefettura quali assuntori di droga i due acquirenti una donna di 24 anni e un uomo di 42 anni, entrambi pratesi. E voltiamo pagina, nuovo ingresso per il museo di Palazzo Pretorio e nuovi spazi per l'ufficio informazioni turistiche che si trasferisce così in Piazza del Comune. Resta invariato invece il percorso espositivo ma il piano terra e i visitatori avranno alcune novità. Scopriamone di più. Nuova veste per Palazzo Pretorio. Il progetto di Gaia Aulenti è diventato realtà. L'ingresso del Museo Civico è stato infatti spostato sempre in Piazza del Comune ma davanti alla Fontana del Bacchino. Altra grande novità, insieme alla nuova biglietteria negli ampi locali posti a piano terra trovano spazio il bookshop e il punto informazioni turistiche che si trasferisce così da Piazzetta Buonamici. Abbiamo colto questa occasione sulla quale lavoravamo da un pezzo anche per riunire alcune funzioni. L'accesso al bookshop e alla libreria di Palazzo Pretorio sarà da oggi in poi libero. Non sarà necessario pagare il biglietto per potervi accedere e all'interno del bookshop sarà anche possibile godere delle informazioni turistiche perché con l'assessore Toccafondi abbiamo deciso di spostare l'ufficio di informazioni turistiche qui dentro il museo di Palazzo Pretorio da Piazza delle Bigonge a qua. Nel contempo il piano terra del palazzo è stato completamente rivisto. Gli interventi e la riorganizzazione delle sale non hanno modificato il percorso di visita ma gli ospiti incontreranno alcune novità lungo il percorso al piano terra. Fra queste è una nuova location per l'antica spezzeria dell'ospedale della Misericordia Dolce di Prato e il bellissimo portone in legno intagliato in origine posto all'ingresso del Monte di Pietà. Questa sala già esisteva, era la sala dedicata alla parte storica del palazzo dove sono esposti oggetti che richiamano appunto la storia del palazzo e abbiamo pensato di aggiungere a questo spazio la spezzeria, l'antica spezzeria dell'ospedale della Misericordia con il suo corredo ceramico che è arrivato nelle collezioni comunali alla fine dell'Ottocento. Poi abbiamo il portale che decorava l'ingresso del Monte di Pietà che fu fondato nel 1476 e che stava proprio in queste stanze. Alcune modifiche poi sono state fatte all'esterno del palazzo. I locali di Piazza Bonamici infatti che prima ospitavano l'ufficio informazioni turistiche verranno usati dal negozio della Tipico con ingresso su via Cairoli. Ci sarà un trasferimento del negozio del Casotta Tipico che è quello che fino ad ora è stato sulla via di Casoli che vende tutti i prodotti nel nostro territorio dai biscotti al vino organizzato dalla strada dei vini. Sarà collocato proprio in quello spazio con uno spazio anche di somministrazione. In una sola serata quattro automobilisti sono stati multati dalla polizia municipale per 9.500 euro complessivi. Le due sanzioni per 600 euro sono state elevate ad un cittadino cinese che guidava un veicolo non revisionato con bombole di GPL scadute non controllate da oltre 10 anni. Un motociclista cinese recidivo per guida senza patente ha subito multe per 4.700 euro anche per mancanza di revisione del veicolo di assicurazione e per ersi rifiutato di custodire il ciclomotore che le è stato sequestrato. Altri due automobilisti guidavano veicoli sottoposti a fermo fiscale. Carmignano sempre più ecologica anche nel 2019. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di effettuare il servizio di disinfestazione utilizzando prodotti ecologici. Vediamo. Dopo una prima sperimentazione avviata nel 2017 e visti i risultati positivi riscontrati lo scorso anno e il comune di Carmignano ha deciso di continuare il suo percorso di disinfestazione e derattizzazione dell'intero territorio utilizzando prodotti biologici ed ecologici non nocivi per le persone e per l'ambiente. La nostra amministrazione fin dall'inizio si vuole contraddistingue per la tutela dell'ambiente e della salute umana. Il tema della disinfestazione è ovviamente una questione importante. L'anno scorso abbiamo avviato una sperimentazione. I risultati che abbiamo avuto sono stati risultati positivi. La sfida era quella di tenere assieme la lotta contro le zanzare che sicuramente non allietano le nostre state e assieme la tutela dell'ambiente e della salute delle persone. I dati ci confermono che questa sfida è stata raccolta ed è stata vinta. Quindi per il secondo anno consecutivo proseguiamo su questa strada che è la strada della sostenibilità con un percorso di condivisione e coinvolgimento della cittadinanza con informazione e con materiale necessario per lavorare anche negli spazi privati. Due sono le tipologie di intervento adoperate sul fronte della disinfestazione antizzanzara. L'arvicida con l'immissione nelle caditoie, ristagni d'acqua e tombini di uno specifico composto eco-friendly repellente contro le zanzare adulte. Di pari passo procede anche la campagna di informazione e sensibilizzazione per far conoscere meglio questa pratica eco-friendly di lotta alle zanzare e sono stati programmati cinque incontri a partire dal 6 aprile durante i quali verranno consegnate gratuitamente alla popolazione delle compresse contenenti un prodotto ecologico innovativo per la lotta alle zanzare. I benefici sicuramente sono sia per l'ambiente che per i cittadini è partito questo progetto nel settembre 2017 che riguarda tutto il territorio comunale dove vengono fatti sia gli interventi antilarvali che quelli che prima erano interventi adulticidi in maniera totalmente biologica ed ecologica. Questo naturalmente con un grande vantaggio sia per la sicurezza e la salute delle persone e degli animali domestici sia per quanto riguarda il poter tranquillamente andare a giro la sera per i cittadini senza avere paura passa al furgone, mi spruzza, è un veleno perché non ci sono più questi rischi. Dati alla mano abbiamo scoperto di avere un abbattimento, abbiamo felicemente scoperto di avere un abbattimento che arriva fino al 45% in alcuni mesi e questo ci ha reso molto contenti, si può dire che la sfida al momento è vinta e quindi continuiamo anche quest'anno su questa strada. E subito dopo il nostro telegiornale ci colleghiamo con TV2000 per seguire in diretta la visita ufficiale di Papa Francesco in Marocco questo fino alle ore 18 quando come di consueto trasmetteremo poi la Santa Messa dalla Cattedrale di Prato. E apriamo adesso la pagina sportiva, iniziamo dal calcio, ultimo treno per i play-off il Prato non può permettersi altri passi falsi se vuole continuare a sperare negli spareggi promozione. Domani al campo Nelli di Ostia arriva il tutto a cuoio, ce ne parla Massimiliano Masi. Ripartire a tutto gas. Il Prato, reduce dalla sconfitta di Montevarchi, parte alla ricerca dell'immediato rilancio in classifica affrontando domani, con inizio alle ore 15, in casa al campo sportivo Adonelli di Montemurlo il tutto cuoio. I bianco-azzurri devono assolutamente vincere per non perdere definitivamente contatto dalla zona play-off. Sulla strada del Prato arriverà il tutto cuoio, che reduce da una settimana davvero burrascosa, con la decisione della presidentessa Coia di tagliare tre giocatori, Cascone, Gorzegno e Di Paola, dopo il burrascoso dopo partita della gara casalinga con il Ponsacco. Questo scarpino che sembra l'abbia colpito, l'abbiamo detto sulle croniche, è vero o meno? Sì, 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 ha lanciato degli oggetti, tra cui la scarpa. Quindi Cascone, la luce di questo atteggiamento? Abbiamo avuto un incontro stasera, abbiamo ritenuto per entrambi, perché ribadisco, è sotto pressione. Non ci hanno avuto i supporti per proseguire. Adesso deve stare un po' a riposo, deve recuperare tranquillità, quindi tornerà a casa, gli faccio una volta per allenarsi questi mesi e domani torna a casa. Sarà un tutto cuoio con i nervi a fior di pelle quello che arriverà a Montemurlo per affrontare un Prato che dovrà rinunciare al solo difensore quinto, infortunato. Per quanto riguarda la formazione da mandare in campo, il tecnico Alessio De Petrillo dovrebbe proporre. Fontanelli in porta, mentre in difesa agiranno Piroli, Sciannamè e Bassano come centrali, con Tomi e Marini ad agire sugli esterni. A centrocampo Gargiulo con Carli, mentre Coassi sarà a ridosso delle due punte, che saranno Moreo e Fofanà. Un derby davvero decisivo per decifrare il futuro del Prato in queste ultime cinque partite della regular season. Teme la partita di Prato? Adesso sono più tranquilla, perché penso che il fondo così sia toccato poi ieri. E passiamo adesso al basket. Sibe Prato ad un passo dal salto di categoria nel campionato Gold. Se i Dragons dovessero battere domani la Libertas 47 Livorno, sarebbero matematicamente promossi. Palla 2 alle 18 alle Toscanini. Gara da prendere con le molle ai Labronici. Infatti mancano soltanto due punti per essere certi di accedere ai play-off. Per la sfida di domani, Coccio Pinelli spera di poter recuperare Staino, anche solo per un minutaggio ridotto. Importante, come sempre, sarà l'apporto dei tifosi di casa, sempre vicini alla squadra nel corso di tutta la stagione. La telecronica di Sibe Libertas andrà in onda martedì 2 aprile alle 23.50 su questo canale. E questa era l'ultima notizia. Il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Ma rimanete con noi perché adesso ci colleghiamo, appunto in diretta con TV 2000, per seguire la visita ufficiale di Papa Francesco in Marocco. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il video.